Allargatevi per piacere, lasciamo spazio per il trago cinese che si esibirà qui in Pettola Piazza. Grazie. Accogliamo con un grande applauso il trago cinese, grazie. 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 No, abbiamo visto un po' da vicino, abbiamo visto un po' da vicino, abbiamo visto un po' da vicino. C'è un trago che... oddio che ci si tratta di prima e si tratta di invece. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Un applauso, grazie. 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 Grazie.